Percorso in salita, tappa 3. Marco Cavallo e la psichiatria triestina. La statua riproduce Marco Cavallo, una macchina teatrale di legno e cartapesta di colore azzurro. Un'opera collettiva realizzata nel 1973 dentro il manicomio di Trieste, di cui era direttore Franco Basaglia. Si ispira ad un cavallo in carne ed ossa, all'epoca adibito al trasporto della biancheria nell'ospedale psichiatrico. Divenne il simbolo della volontà di liberare i malati da una psichiatria antiquata, fondata sulla reclusione, contro la quale Basaglia si batte fino alla riforma del 1978, che sancì la chiusura dei manicomi e per la quale Trieste è un simbolo a livello nazionale. Per raggiungere la tappa successiva, procedere per qualche metro lungo via Weiss, fino ad incontrare una grande scalinata. Salire le scale oppure proseguire sulla sinistra lungo la strada principale. In cima alla scalinata si incontra la statua intitolata Il Tuffo. Il prossimo QR code è fissato ad un palo nei pressi della statua. Il tempo di percorrenza previsto è di due minuti.